La notte del chitarrista. Se si sia trattato di un alba, di un tramonto, non c'è dato saperlo. Ad oggi si sa solo che in una notte la canzone italiana scomoda, quella che fa le scarpe potenti e soprattutto quella custode e matrona di una società in continuo cambiamento, dove il faro guida da seguire difficilmente si rintraccia nel vertice della piramide politica, è ricomparsa in città. Ivan Graziani cantava e suonava dal basso e attraverso il basso. Proveniva dall'abruzzesissima Teramo, ma esplosia a Milano con pezzi di originalità assoluta, quali Pigro e Agnese. Un successo però goduto sempre al limite del baratro della scomodità. Ivan Graziani parlava alla gente della gente. Avezzano, con una notte mozzafiato e nove musicisti di spessore, ricorda quindi il mito, l'uomo e il sangue rivoluzionario, che dava voce e importanza ai giovani dentro, perché la musica, nella sua vasta gamma di potenzialità, ha anche il potere di fidelizzare i ribelli della società al giusto modo di cambiare le cose. Federico Poggio Pollini, Mel Prevait, Ricky Portera e Goran Kuzmnak. Questi nomi di grande eco che hanno fatto di un concerto la fabbrica delle storie di vita vera, vissuta ai margini delle favole. Presso il locale Teatro dei Marzi, il giorno 28 dicembre, si è acceso il concerto delle chitarre rock. Un omaggio musicale a Ivan Graziani, ma anche un omaggio alla musica intelligente che ci sa fare. Tante persone ad assistere allo show dall'Anima Nera. L'evento è stato patrocinato dall'amministrazione comunale di Avezzano e ideato e portato alla luce dal team manager abruzzese Tony Orlandi. La notte del chitarrista, quindi unico evento di questa tipologia a livello regionale, ha unito la scatola di ricordi e sensazioni del pigro in tour, spettacolo itinerante messo in piedi dagli eredi di sangue e dagli eredi di palco di Ivan, i suoi due figli e i suoi musicisti storici e quattro giganti del palcoscenico rock. Applausi commossi e nostalgici anche per la presentazione della biografia intonata al cosiddetto primo cantatore rock della storia della musica italiana. Composta e firmata dal giornalista del Fatto Quotidiano e scrittore Paolo Talanca, con prefazione di Andrea Scansi. Un ondaturto quindi potente ha colpito la città capofila della Marsica, occhi stralunati e strabiliati per l'unico accordo di chitarra che riuscì a suo tempo ad emozionare, salvando dalla nulla facenza, oltre la musica, anche le parole. Ecco il riassunto e le parole della serata. Ivan Graziani, un artista della chitarra nelle mani ma soprattutto un cantatore rivoluzionario nel cuore e nella voce. È giusto ricordare la sua memoria attraverso un evento di questo tipo? Beh, prima di tutto siamo in Abruzzo. Ivan Graziani era abruzzese ma verace e poi oltretutto era un grande musicista e un innovatore per i suoi tempi, specialmente con l'elettrica. era l'unico vero rocchettaro di quel periodo della musica italiana. Perciò non è giusto e doveroso. Qui presenti questa sera alcuni fra i più grandi pletteri di chitarra a livello internazionale ma la musica cosa può ancora dire o fare nei confronti della nuova generazione? Può risvegliarla, può farla andare avanti? Allora, io ho grande fiducia, devo dire, nella nuova generazione. Il mio problema è che tutti quanti i media, tutto quanto il sistema sembra deputato a addormentarvi. Cioè vi fanno vedere il grande fratello, vi fanno vedere i vari fattori X eccetera cose strane. E stavo parlando prima con Ricchi Portera, la nostra preoccupazione è che non abbiamo figli. Cioè se i figli sono questi gruppi strani che sono molto sponsorizzati, ma che sotto sotto non hanno sostanza. Cioè veramente era meglio abortire prima, cioè era un problema. E perciò in realtà i giovani dico la musica non è solamente dei musicisti professionisti. La musica è una cosa, accarezzare una chitarra ti dà la stessa sensazione di accarezzare un gatto, cioè ti mette tranquillo. E in più non ti lascia i pilli per casa. Ma la musica va fatta, va ascoltata. Quando si ascolta, si ascolta per sentire. Quando si guarda, si guarda per vedere. E non dite più vado a vedere un concerto, dite vado a sentire un concerto. Perché si vanno a vedere i Pink Floyd, sai c'è tutta una cosa. Ma la musica è un fatto talmente intimo, talmente personale, talmente emozionale che serve per vivere. Come fai a vivere senza musica? Si può ancora vivere di musica nel 2015 e soprattutto, secondo lei, è una benedizione e una maledizione? Ma io lo sto facendo da quando avevo 22 anni e ne ho qualcuno in più. Molto a fatica, andando a fare la spesa alla Lidl, ma con la convinzione, con la sicurezza di essere un uomo libero, di non avere costrizioni, di non avere orari, di avere una passione, di avere un dono. Perciò probabilmente oggi è sempre più difficile vivere di musica perché, come dicevo prima, la gente non ascolta. Ma se lo vuoi fare, lo puoi fare. Erede di sangue di Ivan Graziani, ma soprattutto erede dello spirito. Questa sera viene presentato il Pigro in Tour in una versione un po' più allargata. Che ambizioni ha? Ma l'ambizione, chiamarla ambizione, secondo me è sbagliato. Cioè, è la voglia di fare una serata fra persone che, insomma, hanno la passione innanzitutto per la musica e poi per il lavoro di papà. Quindi è la voglia di suonare insieme più che un'ambizione. C'è una canzone, più di tutte, che ricorda Ivan Graziani nella sua anima più schietta che verrà magari suonata questa sera? Beh, guarda, io purtroppo non ne farò parte perché non l'amico Filippo mi ha dato altri titoli. Io credo che, per quello che ho vissuto io di Ivan, sono stato un suo grande fan proprio. Io credo che Firenze sia il top dei top. Io credo che Ivan sia riuscito ad unire quello che è l'energia di un pop rock a una poesia meravigliosa. Quindi, io quando ascolto Firenze mi vengono i peli dritti. Mi si addrezzano tutti i peli, non hai idea. Guarda, proprio è una cosa meravigliosa. A tanti anni di distanza dalla sua morte ancora vengono ascoltate le sue canzoni, soprattutto dai giovani. Perché? Ecco, una bellissima domanda. Devo dire che anch'io ho riscontrato questa cosa. Nel senso che, secondo me, Ivan Graziani, un grandissimo artista, va sottolineato, però è un artista che è rimasto un po' nascosto. E secondo me il suo modo di scrivere è molto attuale. E soprattutto gli adolescenti, che comunque vanno a riscoprire le cose un po' più ricercate, si sono accorti di questo personaggio molto importante. E io ho avuto la fortuna di fare una collaborazione con Filippo, del chitarrista, anni fa. È una canzone che ogni tanto suono dal vivo. E devo dirti che ho sempre riscontrato interesse di questa cosa. Soprattutto perché la presento come, appunto, do il titolo alla canzone e dico l'artista. E dopo mi chiedo, ah ma mi piace da morire Ivan Graziani. Quindi diciamo che ho notato che negli ultimi anni, credo poi lui potrà dirlo anche meglio, ci sia comunque una voglia di riscoprire questa artista che ha un perché. Cioè ha scritto tantissime cose in maniera molto originale, diversa dalla classica canzone pop italiana, che siamo con qualcosa di particolare, con dei testi veramente innovativi, ricchi di poesia, legata un po' anche, se vuoi, molto figurativa, molto fumettistica su alcune cose. Un esempio potrebbe essere Mona Lisa. È un grande piacere, siamo qua questa sera per fare, festeggiare questa cosa insieme, soprattutto con amici, ma per ricordare un grandissimo artista. Io, prima di venire qua, chiaramente da serio professionista, perché assolutamente non so mai le canzoni che devo suonare. Però essendo un grande, ripeto, ammiratore di Ivan, mi sono un po' ricordato tutto quanto. Però sono andato a scartabellare un pochino, perché volevo vedere Filippo in azione, e me lo sono ritrovato con una grande band italiana, me lo sono ritrovato con Elio di Storie Tese. E io ho fatto un pensiero incredibile. Il sound, il sound che aveva Ivan con i suoi ragazzi allora, non esiste più. Ed era un suono nella sporcizia, fra virgolette sporcizia, noi intendiamo quando non c'è quella precisione millimetrica. Era micidiale. E la dinamica che ha, tu hai cantato con Elio di Storie Tese, proprio Mona Lisa, la dinamica che ha il disco originale, anche se si tratta di un disco registrato negli anni 70, non esiste in una grande band, non si riesce a ricreare quel suono. Quindi bisogna riconoscere anche ad Ivan questo fatto di avere questa prepotenza nel suono. Lui aveva, anche nei fraseggi, ti dico mi sono trovato un po' in difficoltà a fare il fraseggio di Mona Lisa, perché è una ditteggiatura un po' particolare. Esatto. Quindi è gradito questo invito che mi ha fatto Filippo di questo ritorno agli anni 70, perché come disse il mio amico, la musica bella l'hanno fatta negli anni 70. Poi, arrivederci, grazie. Ivan Graziani è stato un grande personaggio nel panorama della musica italiana, ma a tratti anche scomodo. Chi è stato ieri e cosa rappresenta oggi? Una domanda difficile questa. Ieri è stato, a parte il mio padre, insomma, quindi un padre normalissimo come tutti gli altri, però è stato anche un artista riscoperto ultimamente, anche dai giovani secondo me. E quello che è oggi è proprio questo, è qualcosa di bello che c'è stato, che poi uno, anche magari grazie a YouTube, a tutto questo passaparola mediatico che c'è, poi scopri, parlo dei giovani chiaramente, perché poi quelli dalla mia età in su lo conoscono.